Ma dire tu non sai chi sono io può integrare il reato di minaccia. Vedi, la minaccia non deve avere necessariamente un contenuto determinato come per esempio io ti uccido, io ti spacco la testa eccetera. Quello che conta è l'attitudine dell'espressione a intimorire, a limitare la libertà psichica di un soggetto. Quindi il tu non sai chi sono io in determinati contesti, detti con un certo tono, in un certo modo, come l'ho detto io in precedenza per esempio, può determinare quella limitazione della libertà psichica di chi subisce questa affermazione ed in questi termini perciò può configurarsi il reato di minaccia. È il diritto penale. Che stè?